Ora entriamo nel canale Spiegazzini in mezzo ai viaggi Ancora il canale Spiegazzini Spiegazzini era uno studioso di Tunghi e Pauna di questa regione ed era originario di Ponegliano Catamarano che ci precede, navigo in mezzo al ghiaccio Ah che meraviglia Hai mangiato la manzana La manzana La manzana La manzana La manzana Spiegazzini canale navigazione Durante la manzana La manzana Grazie per la sua intenzione Grazie per la sua intenzione guarda là che forme il mio feroce istinto prendesse il sopravvento, mi sono tenuta dura mi ero arrabbiata con quelli fuori un pavolino guarda una lingua di ghiacciaio che è arretrata la lingua di ghiacciaio è arretrata chiamata ghiacciaio secco stiamo andando verso il ghiacciaio secco la lingua di ghiacciaio è arretrata la lingua di ghiacciaio secco è stato un glaciero suspenduo potete vedere che attorno del ghiacciaio c'è una lingua di ghiacciaio ciò 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 è stato un glaciero che ha 4 km2 di superficie è stato un quattro di ghiacciaio secco è stato un quattro di ghiacciaio secco blu andiamo allo spiegazzini che è il ghiacciaio più alto di questo patto nazionale è stato un quattro di ghiacciaio secco è il più alto metodo 5 m metri di altura sopra le aguas del lago E' un glaceo che è anche in franco retroceso, è il glaceo Heim, solo ha 12 km2 di superficie e si può osservare il sito che è occupato di retrocedere il settore di rocacinme. Il glaceoologo alemano che a principi del siglo ha sviluppato una gran quantità di studi sobre la glaceologia, in cui oggi occupa il area del Mondo in Ademainer Glaceo. E' un glaceo, come un glaceo secco, è un glaceo che è uno dei primi glaciologi. E' un'acciaio più alto, ci fermeremo a 300 metri di distanza.